Laura vuole investire i suoi risparmi, ma prima di farlo vuole capire meglio quali rischi può correre. Ciao Emilio, ho deciso di gettare il cuore oltre l'ostacolo e provare ad investire i miei risparmi. Puoi farmi capire meglio quali rischi corro? Cara Laura, dipende molto da che titoli compri. Possiamo individuare a grandi linee quattro principali forme di rischio. Rischio azionario, legato all'investimento in titoli azionari. Rischio di cambio, legato a investimenti in valuta diversa dall'euro. Rischio di tasso, legato alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Rischio di default, legato al fallimento di un emittente. Bene, per ora concentriamoci sul rischio azionario e di cambio. Va bene. Il rischio azionario ha a che vedere con l'evoluzione del mercato azionario nel suo complesso e se compri uno specifico titolo, di quel titolo in particolare. Facciamo un passo indietro. Lasciami spiegare brevemente quali fattori influenzano il prezzo di un titolo azionario e come gli operatori giungono a determinarlo. Ricorda sempre che il valore del titolo non dipende dalla sua notorietà o dalla sua storia. Non dipende nemmeno da quanti profitti ha fatto in passato. Come nel caso di un'obbligazione, il prezzo odierno di un titolo azionario dipende dai dividendi che il titolo consegnerà in futuro e dalle previsioni sul prezzo a cui tu potrai rivenderlo successivamente. Certamente i profitti che un'azienda ha fatto in passato sono un indicatore dei possibili profitti futuri. Ma non lasciarti ingannare. La relazione non è così diretta e al giorno d'oggi le cose possono cambiare in fretta. Pensa ad esempio ad alcune aziende di telefonini. Hanno macinato profitti elevati per anni, ma poi è bastato lanciare un prodotto sbagliato o perdere il treno dell'innovazione e sono scomparse dal mercato. A differenza di un'obbligazione a tasso fisso, in cui le cedole e il valore di rimborso sono conosciute con certezza, a meno del fallimento dell'emittente, i profitti che l'impresa produrrà in futuro e i dividendi che saranno consegnati dal titolo azionario non sono noti con certezza. E come fanno gli operatori del mercato finanziario a determinare il prezzo del titolo? Beh, è un po' complicato. Scherzando io dico sempre ai miei studenti che bisognerebbe essere laureato in finanza per capirlo. Dovresti considerare vari scenari sull'andamento dell'economia nel suo complesso e del mercato dell'azienda in futuro e provare a prevedere i profitti dell'azienda nei diversi scenari individuati. Ad ogni scenario puoi assegnare una probabilità di realizzarsi e determinare il prezzo del titolo calcolando il valore atteso dei profitti futuri e attualizzandolo ad oggi. Sembra complesso? Sì, è complicato, lo ammetto. In realtà la strada seguita dagli operatori finanziari è di proiettare gli utili di oggi nel futuro per diversi anni, ipotizzando che seguano un andamento che dipende dall'economia nel suo complesso e dal mercato a cui appartiene l'azienda. Dopodiché, come nel caso di un'obbligazione, per determinare il prezzo del titolo si attualizzano gli utili attesi tramite un fattore di sconto che sarà pari al tasso di interesse di mercato più una componente che è legata al rischio dell'impresa. Non entro nei dettagli che sono complicati, ma il fattore di sconto di un titolo è legato alla volatilità degli utili futuri dell'azienda e al fatto che segua o meno le oscillazioni dell'economia nel suo complesso. Se un titolo ha una volatilità elevata e segue l'andamento dell'economia, allora è considerato molto rischioso e il suo fattore di sconto sarà elevato. Se invece il titolo è anticiclico e quindi va in controtendenza rispetto all'economia, allora il suo fattore di sconto sarà basso. In sintesi, a parità di profitti attesi, le azioni dell'azienda più rischiosi, secondo i parametri che ti ho appena detto, avranno un prezzo più basso. Andando al punto, posso dirti che puoi aspettarti un aumento del valore della borsa nel suo complesso o di un titolo se prevedi una crescita dell'economia. Una recessione porta invece ad una flessione della borsa. Bene, ora mi è un po' più chiaro. Passiamo alla seconda tipologia di rischio, il rischio di cambio. Di cosa si tratta? È molto semplice. Se compri un titolo, azione o obbligazione in valuta diversa dall'euro, devi avere un determinato ammontare denaro in quella valuta per acquistare il titolo. Il tasso di cambio ti dice quanta valuta estera puoi acquistare con un euro. Questo significa che se hai un prezzo in valuta estera per conoscere a quanti euro equivale, devi dividere il prezzo per il tasso di cambio. Ipotizziamo che tu voglia comprare un titolo americano al prezzo di 5 dollari. Il cambio oggi è pari a 1.1. Questo significa che con un euro tu puoi acquistare 1.10 dollari. Stai attento a interpretare il tasso di cambio. In questo caso, se vuoi acquistare il titolo che costa 5 dollari, significa che tu devi spendere 4.54 euro, che è pari a 5 diviso 1.1. Facciamo un altro esempio. Il tasso di cambio euro sterlina è 0.8. Se vuoi comprare un titolo che ha un prezzo pari a 3 sterline, devi investire una quantità di euro pari a 3.75 euro, cioè 3 diviso 0.8. Capisci bene che quanto più il tasso di cambio è elevato, tanto più si dice che la moneta di riferimento, in questo caso l'euro, è forte, in quanto puoi comprare più valuta straniera con un euro. Mi è chiaro, grazie. Quindi il rischio di cambio è associato al tasso di cambio. Sì, il rischio di cambio ha a che vedere con il fatto che quando vendi il tuo titolo in dollari o in sterline, dovrai convertire la cifra ricevuta in euro. Se nel frattempo il tasso di cambio è mutato, allora anche il valore del tuo investimento sarà cambiato. Ipotizziamo che un anno fa hai acquistato un titolo in dollari al prezzo di 5 dollari con un cambio euro-dollaro pari a 1.2. A quel tempo hai speso dunque 4.17 euro. 5 diviso 1.2. Adesso vuoi rivendere il titolo che ha un prezzo sempre di 5 dollari, ma il tasso di cambio è ora pari a 1.05. Liquidando il tuo investimento otterrai 4.76 euro. In questo caso, l'euro si è indebolito sul dollaro e il dollaro si è rafforzato sull'euro. E quindi il tuo investimento è stato vantaggioso perché hai investito in dollari un anno fa e li converti in euro oggi ad un tasso di cambio più basso. Naturalmente avresti perso dall'investimento se l'euro si fosse rafforzato sul dollaro. Come vedi, puoi guadagnare o perdere da un investimento in valuta semplicemente per il fatto che il tasso di cambio muta nel tempo. Bene, grazie. Ora ho le idee più chiare. Grazie. Grazie. Grazie.